È davvero un ottimo momento per assemblare un nuovo PC da scrivania di fascia medio alta. Dopo un paio di generazioni nelle quali AMD ha sbaragliato completamente la concorrenza con i propri processori Ryzen, Intel finalmente ha reagito lanciando la dodicesima generazione di CPU Intel Core. Il loro nome in codice è Alder Lake e presentano delle prestazioni in single thread veramente eccezionali e veicolano tantissimo velore a un punto di prezzo veramente eccezionale. Ah dimenticavo, ciao sono Dan di Turbola.it e in questo video come hai capito vedremo tutte le migliori componenti del 2022 per assemblare un nuovo PC che poi sarà completamente modulare e che potrai espandere come meglio preferisci. Se l'argomento ti interessa e anche tu stai valutando di acquistare un nuovo PC fisso oppure di scegliere le singole parti per poi assemblartelo da solo, seguimi. Prima di cominciare vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbola.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Il bello di questa configurazione è che è appunto la macchina eccezionale per tutte le attività di produzione quindi se sei un programmatore magari hai bisogno di compilare codice velocemente oppure apri dei progetti con Visual Studio PHP Store ma composti da migliaia di file oppure come me magari fai montaggio video o ancora magari esegui delle macchine virtuali oppure ti piace riprodurre filmati anche ad altissima risoluzione. Ebbene per tutte queste attività il computer che andremo ad assemblare è eccezionale. Chiaramente lo puoi utilizzare anche per le semplici attività web come utilizzare appunto Facebook, la posta elettronica, YouTube e tutte le altre attività di base però chiaramente questa configurazione per tale scopo probabilmente è sovradimensionata come a dire ti sembrerà veramente di volare però potresti ottenere un risultato simile spendendo anche molto meno. Se però vuoi anche giocare non c'è assolutamente problema questa configurazione infatti è una base eccezionale e ti basta montare una GPU dedicata di fascia magari media oppure anche alta per ottenere le migliori prestazioni anche nel gaming. Ma va bene ho blatterato abbastanza entriamo nel vivo della trattazione partiamo sicuramente dal processore e per quanto riguarda questa generazione la mia preferenza va a Intel Core i5-12400 è sostanzialmente una CPU posizionata nella fascia media non è sicuramente la più veloce però neanche la più economica e il motivo per cui l'ho scelta è perfettamente illustrato da questo grafico che ho preso da techpowerup.com in particolare è la CPU che come vediamo da questo grafico ci offre la miglior performance per dollar ovvero il rapporto fra presso e prestazioni è quello più vincente in assoluto come vedi qua la 12400 è al top per quanto riguarda il rapporto presso prestazioni e tutte le altre hanno chiaramente un rapporto presso prestazioni inferiore infatti qua sopra come vedi ad esempio la CPU Ryzen 9 5950X che è un po' quella più veloce attualmente in circolazione per i PC desktop è posizionata nella parte più alta del grafico proprio perché veicola il peggior rapporto presso prestazioni ciao scusa per l'interruzione se il video ti piace ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere per me è sempre davvero estremamente importante quindi grazie, grazie davvero se troverai un secondo per farlo se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco mi raccomando non dimenticare la campanella torniamo al video che cosa ci portiamo a casa con questo processore sostanzialmente è un processore appunto come dicevamo di dodicesima generazione Alder Lake con 6 core a 64 bit e il processo produttivo a 10 nanometri che Intel spaccia come Intel 7 proprio per non evidenzare la differenza rispetto al processo produttivo di AMD è chiaramente dotato di hyperthreading quindi sostanzialmente ci sono 6 core a otteniamo 12 thread che possono svolgere lavoro in parallelo tutti i core che compongono il processore 12400 sono di tipo performance quindi i più veloci perché questo è molto importante? perché a partire da questa generazione Intel ha introdotto due tipi di core diversi ovvero mentre prima sulle generazioni precedenti tutti i core erano dello stesso tipo sui processori Intel di dodicesima generazione alcuni core sono performance quindi sono quelli che spingono di più e che vengono attivati per i lavori per i carichi di lavoro più intenso mentre di solito ce ne sono anche altri che sono detti di tipo efficient ovvero sono quelli che consumano meno energia ma sono più efficienti ovvero sostanzialmente sono più lenti quindi abbiamo 6 core che spingono al massimo della potenza la frequenza nominale è di 2,5 GHz ma in caso di carico pesante può arrivare tranquillamente a 4.4 GHz con la funzione Turbo Boost per quanto riguarda il supporto alla memoria Intel a partire da questa generazione si è stra mega sbragata addirittura possiamo montare fino a 128 GB queste CPU supportano sia le vecchie DDR4 sia le nuovissime DDR5 quindi entrambi i tipi di memoria però non possiamo utilizzarli contemporaneamente quindi dovremo scegliere una scheda madre che supporti o le DDR4 o le DDR5 ne parliamo fra un po' per la scelta della RAM il modello che raccomando nello specifico si chiama Intel Core i5-12400 senza altre lettere dopo il nome che è proprio il modello dotato anche di GPU integrata quindi la scheda video è integrata nel processore se vogliamo possiamo anche utilizzarlo così senza acquistare una scheda video dedicata se però sei sicuro che fin da subito vuoi montare una GPU dedicata una scheda video dedicata puoi scegliere anche il processore Intel Core i5-12400F quindi la lettera F alla fine del nome del processore significa che non ha la GPU integrata ed è una buona opzione perché ci permette di risparmiare 20€ sostanzialmente per quanto mi raccomanda io non consiglio questo processore proprio perché scegliendo quello con GPU integrata abbiamo la possibilità magari di non acquistare immediatamente la scheda video ed acquistarla in un secondo momento e potremo già utilizzare il nostro PC se però sei sicurissimo che monterai immediatamente una scheda video perché magari già ce l'hai a casa magari una scheda video di recente generazione che vuoi riutilizzare appunto scegliendo quello con la desinenza F puoi risparmiare una ventina di euro sull'acquisto del processore per quanto riguarda le altre opzioni disponibili se per caso il 12400 non è disponibile puoi valutare sicuramente il 12600 che come abbiamo visto anche dal grafico ha comunque un rapporto presto prestazioni abbastanza interessante è chiaramente la CPU di livello superiore e quindi sostanzialmente ti garantirà una manciata di megahertz in più niente di veramente rilevante però di nuovo se il 12400 non è disponibile questo può essere un'ottima seconda soluzione chiaramente il nostro processore Intel deve essere raffreddato come facciamo? tramite il dissipatore che Intel ha ricominciato a inserire in dotazione al processore si chiama Intel Laminar RM1 questa nuova generazione ed ha questo bel aspetto ora sostanzialmente questo si tratta di un dissipatore di base quindi le prestazioni non sono certamente eccezionali sono comunque buone per l'utilizzo standard di questo processore però eventualmente possiamo procedere in questo modo per il momento utilizzare proprio il nostro Laminar fornito in dotazione e solo successivamente in caso non fossimo soddisfatti acquistare un più costoso dissipatore dedicato di terze parti bene dove installiamo il nostro processore e il nostro dissipatore? chiaramente sulla scheda madre ora personalmente è una preferenza forte per le schede madri prodotte da Gigabyte le utilizzo da tantissimi anni, le consiglio e non ne ho mai vista una morire sostanzialmente le ho sempre sostituite che erano ancora funzionanti semplicemente per aggiornare e passare a una generazione successiva in particolare per questa generazione la mia preferenza va la Gigabyte B660M DS3 HDDR4 il nome come al solito è veramente lunghissimo questa è la nostra scheda madre però sostanzialmente è un'ottima scelta per questa configurazione parliamo rapidissimamente del chip 7 il B660 che in questo momento è quello posizionato nella fascia medio-bassa ovvero il Z690 è quello migliore per la famiglia di processori Intel Core di dodicesima generazione però sostanzialmente la differenza di prezzo è sicuramente rilevante a che cosa rinunciamo scegliendo una B660? beh sostanzialmente non consente l'overclocking che come abbiamo già detto comunque non sarebbe supportato dal processore non permette le configurazioni in modalità ride le configurazioni disco in modalità ride che però in questo caso sono fornite dalla scheda madre quindi di nuovo non c'è nessuna rinuncia c'è un minor numero di porte USB che comunque credo che sia comunque più che sufficiente per l'utilizzo standard e non dispone di un numero di collegamenti lane particolarmente elevato che però non è realmente un problema per le configurazioni desktop che andremo a realizzare quindi per quanto mi riguarda questo B660 è un'ottima ottima scelta per una CPU desktop la scheda madre che abbiamo scelto utilizza solo memorie DDR4 quindi come abbiamo detto prima il processore supporta sia le DDR5 nuova generazione sia le DDR4 il problema e il motivo per cui ho scelto una scheda madre DDR4 per questa generazione è che le memorie DDR4 di buona qualità superano addirittura in alcune circostanze le DDR5 di qualità media quindi sostanzialmente è ancora una buona scelta anche perché i prezzi delle DDR5 sono veramente stellari per il momento per quanto riguarda i connettori posteriori c'è un'ottima scelta in particolare abbiamo una HDMI 2.1 che quindi supporta la risoluzione 4K a 60Hz oppure abbiamo due DisplayPort di cui una sostanzialmente supporta anche la decodifica dei contenuti ad altissima qualità e una vecchia VGA, una vecchia D-Sub appunto per collegare eventualmente un vecchissimo monitor che dovessimo avere ancora in giro per quanto riguarda invece l'ambito video una caratteristica molto importante è che questa scheda madre dispone di uno slot PCI Express 4.0 X16 quindi sostanzialmente ci permetterà anche in seguito di installare come dicevo prima una scheda video di fascia anche molto alta per quanto riguarda i connettori dei dischi abbiamo due connettori NVMI sempre in specifica PCI Express 4.0 e 4 appunto SATA a 6 GB per colgare eventualmente dei vecchi dischi si tratta di una scheda madre in formato ristretto quindi quelle un pochino più piccolette che comunque ci offre veramente tutti i connettori che ci possono interessare anche sul retro quindi abbiamo una USB Type-C generazione 2 quindi quelle da 10 GB per secondo abbiamo tre USB 3.2 di generazione 1 quindi quelle classiche sono USB Type-A con il connettore normale due USB 2.0 per la tastiera e il mouse una vecchissima addirittura PS2 per i vecchi mouse e tastiere se qualcuno ancora ne ha in giro l'audio ha due 4, 5.1 e 7.1 canali e ancora due PCI Express di tipo vecchio 3.0 eventualmente per aggiungere delle periferiche delle schede di espansione una cosa che mi è piaciuta moltissimo è che questa scheda madre monta un connettore Ethernet quindi per la rete cablata da 2 GB per secondo quindi non è il classico Ethernet da 1 GB per secondo addirittura un 2 GB per secondo del cui probabilmente per il momento non te ne farai niente perché che io sappia ci sono ancora pochissimi router in circolazione reali presso le nostre abitazioni con il supporto a 2.5 GB per secondo però è sicuramente un'ottima prospettiva per il futuro perché soprattutto i nuovi router di nuove generazioni per le velocità in fibra ottica riescono a superare il gigabit per secondo quindi quando eventualmente ti farai una connessione ad internet magari da 3 GB per secondo ce ne sono già alcune in circolazione anche in Italia potrai utilizzare la rete al massimo della velocità e sfruttare al pieno la tua connessione vediamo un componente che è sempre un po' spinoso da gestire ovvero la scheda video come ho detto quindi la scheda video in dotazione al nostro processore Intel è la Intel UHD Graphics 730 che garantisce appunto un livello di prestazionale assolutamente ottimo per le attività desktop ciò detto permette anche di giocare però solamente come dicevo in apertura a patto di mantenere risoluzione e dettagli a livelli bassi se però vuoi spingerti oltre vuoi installare una GPU dedicata all'argomento si fa veramente molto spinoso ovvero in questo momento i prezzi delle GPU rimangono veramente altissimi quindi personalmente in questo momento storico io non mi sento di consigliare di acquistare una GPU dedicata per il momento io quindi consiglio di utilizzare la GPU integrata sul processore accontentarsi un po' del livello di dettagli basso e affrontare il prezzo delle GPU solamente in un secondo momento veniamo alla scelta della memoria come abbiamo detto dobbiamo scegliere degli stick DDR4 perché siano compatibili con la nostra scheda madre però sostanzialmente ce ne sono davvero di ottimi in circolazione io in particolare ho individuato questa Corsair composto da un kit appunto di due banchi da 8 GB DDR4 3600 scegliamo 8 GB due moduli da 8 GB ognuno quindi per arrivare a 16 GB in questo modo avremo anche la possibilità in futuro poiché la scheda madre offre 4 slot per la RAM di finire la serie installare altra memoria come questa ed arrivare a 32 GB che mi aspetto che siano una buona dotazione un po' anche per il pubblico più esigente perlomeno per l'immediato futuro veniamo allo storage questa scheda madre come abbiamo detto ci offre uno slot M.2 PCI Express 4 e vogliamo sicuramente sfruttarlo fino in fondo per farlo ci serve quindi un SSD NVMe PCI Express 4 in particolare per quanto mi riguarda io ho scelto il VD Black SN850 da 500 GB che viene venduto attualmente a prezzo di circa 94 euro quindi per un prezzo inferiore ai 100 euro ci portiamo a casa questo SSD che attualmente costituisce un po' il non plus ultra per l'archiviazione in ambito desktop perché appunto offre interfaccia PCI Express 4.0 che consente di raggiungere velocità veramente supersoniche perché parliamo di 7 MB al secondo in lettura e 5300 in scrittura quindi siamo sopra non solo ai 600 MB dei vecchi SSD SATA di fascia alta ma addirittura molto sopra anche i normali SSD NVMe di precedente generazione se hai bisogno però di archiviare anche grandi quantità di dati freddi ovvero dati come film, musica, foto tutte cose che magari salvi sul tuo disco ma che poi non utilizzi quotidianamente la soluzione migliore è sicuramente quella di acquistare un NAS dedicato ovvero uno scatolotto che ti permette di archiviare dati si tratta però di un componente aggiuntivo che può avere costi anche importanti quindi capisco che non tutti vogliono procurarsi un dispositivo di questo tipo per chi voglia a tutti i costi mantenere i propri dati invece sul computer la soluzione migliore per memorizzare grandi quantità di dati è sicuramente quella di continuare ad utilizzare un lento disco fisso a piatti meccanici in particolare io ho trovato questo Toshiba P300 da addirittura 4TB che è chiaramente un disco fisso quindi sarà lentissimo perché a causa dei suoi piatti meccanici però a 75€ è una delle migliori soluzioni per quanto riguarda lo storage di grandi quantità di dati parliamo rapidamente di scheda di rete come abbiamo detto per quanto riguarda la rete cablata non c'è problema perché l'adattatore Ethernet è on board mentre invece se abbiamo la necessità di collegarci via wifi dobbiamo scegliere un dispositivo dedicato io fra tutte le soluzioni in circolazione ho trovato ottimo questo apparecchio proposto appunto da Ubit 3Band 5400 Mbps che ho trovato su Amazon sostanzialmente mi è piaciuto moltissimo perché si tratta semplicemente di un'impalcatura con delle grosse antenne costruite attorno alla schedina Intel AX2100 quindi la scheda vera e propria la parte attiva la realizza Intel questa è una parte generalmente per notebook che però i nostri amici di Ubit hanno appunto incastonato nel loro adattatore questa cosa mi piace moltissimo perché si tratta sostanzialmente di una soluzione Intel quindi da qui in avanti i driver li rilascia Intel potremmo installare e scaricare direttamente dei driver aggiornati dal sito di Intel senza che appunto il produttore smette di rilasciare driver aggiornati e quindi ci lascia in braghe di tela già fra pochi mesi a questo punto invece potremmo contare completamente su Intel tagliando fuori del tutto l'intermediario la scheda audio è già direttamente integrata nella scheda madre quindi non ci serve altro mentre invece potremmo valutare di installare un masterizzatore ora sostanzialmente per quanto mi riguarda sono già moltissimi anni che non installo più un masterizzatore interno anche perché lo utilizzo veramente poco quindi per quanto mi riguarda la soluzione migliore è un masterizzatore esterno ci sono varie soluzioni possiamo scegliere un masterizzatore di CD o DVD chiaramente se stiamo ancora utilizzando i dischi ottici oppure un masterizzatore di CD, DVD e Blu-ray di nuovo non mi dilungo più di tanto nell'articolo su turbola.it trovate i miei suggerimenti veniamo alla scelta del case quindi il contenitore di tutto quanto ora sostanzialmente so che nessuno vuole spendere tanti soldi nel case però è bene investire qualche eurino anche in questo componente perché se scegliamo un modello molto scarso si sentiranno un sacco di cigoli, vibrazioni e brutti rumori per non parlare di un flusso di areazione magari insufficiente che farà surriscaldare i nostri componenti interni ora nel grande parco di case che ci sono disponibili ho cercato comunque di scegliere uno che abbia un prezzo di accesso ragionevole e mi sono appunto assistato su questo Cooler Master Master Box Light 3 da 42 euro. È un case piuttosto interessante ci offre la possibilità di installare comunque una buona quantità di dischi ha una buona reazione ho letto qualche recensione le persone ne sono comunque soddisfatte quindi può essere una buona scelta il case non è fornito di alimentatore che è comunque una buona cosa perché così possiamo sceglierci l'alimentatore che preferiamo ora scegliere l'alimentatore per pc è sempre veramente difficile in particolar modo perché non possiamo sceglierne uno di scarsa qualità perché è la parte proprio a contatto con la parte elettrica e quindi se per caso c'è un problema o è di scarsa qualità rischiamo che o si surriscaldi spegnendo di botto il computer oppure invidi i picchi di tensione ai vari componenti friggendo il pc addirittura ho letto di alcune persone che con degli alimentatori di qualità bassa hanno addirittura assistito ad un incendio del computer quindi questo non lo vogliamo nel modo più assoluto allo stesso modo gli alimentatori partono da appunto 20 euro per quelli scarsi che non toccherei neanche con un bastone fino a superare i 300 euro dobbiamo trovare una buona via di mezzo fra tutto il mare magnum di alimentatori che ci sono in circolazione dobbiamo cercare di scegliere quelli che utilizzano i convertitori dc dedicati sia per le uscite da 12 volt sia da quelle da 5 volt e in particolare quelli che invece utilizzano un regolatore di gruppo per i due voltaggi dovrebbero essere scartati a priori vi ho lasciato un po' di riferimenti nell'articolo se volete approfondire questi temi insomma per fare breve la storia sulla quale io ho investito un sacco di tempo in ricerche sostanzialmente il Seasonic GC 650 Watt che ho trovato su Amazon è un'ottima soluzione offre un prezzo comunque si propone ad un prezzo comunque interessante perché parliamo di un'ottantina di euro ha appunto un potenziale di uscita fino a 650 Watt quindi potremo tranquillamente alimentare non solo la configurazione attuale abbiamo ancora tantissimo margine ma addirittura come dicevo prima installare anche una scheda video di fascia media oppure alta senza bisogno di sostituire l'alimentatore in questo video mi sono focalizzato sulle periferiche e componenti principali interni del PC però nell'articolo che vi ho proposto su Turbola.it ci sono appunto anche le mie raccomandazioni per la scelta della tastiera il mouse, le cuffie, la webcam e anche per acquistare il monitor per quanto riguarda il sistema operativo invece in questo momento abbiamo sostanzialmente due grosse scelte e vanno bene entrambe se vogliamo rimanere nell'ambito Windows in particolare possiamo scegliere di installare il nuovo Windows 11 oppure il vecchio Windows 10 ora non c'è nessun problema nemmeno a preferire Windows 10 se per qualsiasi motivo Windows 11 non ti piace tanto comunque rimarrà ancora supportato per moltissimi anni e comunque se oggi installerai Windows 10 e acquisterai una licenza di Windows 10 e in un secondo momento vorrai passare a Windows 11 non c'è problema perché l'aggiornamento è gratuito tanto comunque questo computer supporta entrambi i sistemi operativi senza problemi per quanto riguarda eventualmente gli amici più smanettoni possono valutare anche di scegliere magari in dual boot anche Ubuntu io personalmente lo raccomando ti lascio il mio video che ho pubblicato qualche tempo fa per installare appunto Ubuntu in dual boot con Windows così potrai scegliere ad ogni accensione del computer se partire con Ubuntu oppure partire con Windows bene ce l'abbiamo fatta in questo video abbiamo visto tutti i migliori componenti per PC del 2022 e 22 come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere per me è estremamente importante quindi grazie, grazie davvero in anticipo si troverai un secondo per farlo se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia quindi computer, Windows, Internet, Bitcoin, Cryptovalute tutto quello che orbita attorno al mondo tech non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti sulla piccola campanella di fianco mi raccomando non dimenticare la campanella al prossimo video, ciao!